Probabilmente il tutto è nato perché era stata appaventata probabilmente in via informale l'ipotesi che la riforma costituzionale del premierato potesse venire alla Camera, invece è stata fatta una scelta politica differente, ma questa è una scelta assolutamente legittima che il governo poteva fare, quindi da questo punto di vista non c'è alcun tipo di problema. Tra l'altro vi dirò che tendenzialmente la seconda lettura, cioè quella che sarà la prima alla Camera del disegno di legge della riforma del premierato, probabilmente potrebbe essere quella invece che vedrà le modifiche se ci saranno maggiori, perché solitamente è in seconda lettura la prima alla Camera che si potrebbero avere un maggior approfondimento e anche delle modifiche. Quindi da questo punto di vista probabilmente la Camera è andata quasi bene, perché è probabile che verrà fatto un lavoro di fino qui alla Camera e questo sinceramente mi fa anche piacere da questo punto di vista. Per quanto riguarda appunto questa riforma, io chiaramente dare una valutazione politica in questo momento mi sembra molto prematuro, ma sono molto curioso di come si svolgerà il dibattimento. È un po' come per la riforma del regolamento. Io ritengo che quando si fa una riforma costituzionale il principio debba essere il tentativo di avere il maggior numero e la maggior possibilità di condivisione rispetto a tutte le forze politiche, perché comunque si interviene sulle regole del gioco. E penso che sia fondamentale quando si interviene sulle regole del gioco avere la possibilità chiaramente di coinvolgere tutti, ma anche di avere una più ampia condivisione possibile, il che non significa ovviamente paralizzarsi, come dicevo prima la democrazia deve anche decidere, però significa che la Costituzione ci garantisce questo percorso di riforma dove ci sia un ampio dibattito, dove ci siano tutti i tempi assicurati, dove si possa svolgere anche un'importante analisi di quelli che saranno ovviamente le ripercussioni che una riforma di questo tipo potrà avere. E quindi ritengo assolutamente importante, come sicuramente sarà, che ci siano i tempi di discussione dovuti a una riforma così fondamentale per il futuro del Paese.